ciao a tutti sono qui con la veronica il nostro cane la veronica oggi è il 20 agosto 2023 e siamo venuti a raccogliere i pomodori per fare la salsa e quelli che abbiamo a casa li utilizziamo da mangiare di insalate poi veniamo da un contadino qui a collecchio che ne ha tanti ettari e li paghiamo li raccogliamo e li portiamo a casa ne facciamo 45 cassette da da frutta di quelle gialle poi ve le facciamo vedere sono pomodori convenzionali sono pomodori da salsa sono ibridi varietà ibride sicuramente sono in agricoltura convenzionale quindi vengono fatti i trattamenti non sono fatte biologiche né niente noi le prendiamo così perché qui in ambito biologico non c'era praticamente nessuno quei pochi che ce li hanno le fanno pagare veramente una follia noi qui le paghiamo le paghiamo una stupidata diciamo anche se sono fatti in agricoltura convenzionale c'è poco da fare via noi abbiamo abbiamo fatto questa scelta sarebbe sicuramente meglio coltivarsi lì in campo solamente che noi non abbiamo così tanto terreno poi ci vuole tanta acqua non è non è una cosa semplice quindi veniamo qua una volta ogni ogni due anni ne ne acquistiamo quattro cinque cassette se ve le faccio vedere e adesso vi farò vedere tutti gli altri step fare la salsa questo qua è il giorno della raccolta poi le porteremo a casa verranno lavate verranno stese nelle cassette poi verranno scottate poi verranno passate col passa pomodori e poi verrà bollita la salsa e verrà invasettata adesso vedete tutti i vari step che metteremo in questo video ogni step faremo una un mini video e faremo vedere un po tutto adesso vi faccio vedere giusto la cassetta per farvi capire la quantità che abbiamo raccolto ci abbiamo raccolto sei di queste qui viene così sono cassette che aveva acquistato mio papà mia mamma che utilizza una volta per la raccolta di pomodori infatti c'è scritto rodolfi credo che 70 trassi all'anno e sarà circa 15 20 chili quindi questo il primo step di raccolta e adesso vedrete vedrete tutti gli altri step per per farsi la salsa fatti in casa allora sempre il 20 agosto siamo qui a casa abbiamo portato i pomodori con la veronica qui a casa e adesso c'è ho ingaggiato due ragazze qui della zona per pulire la veronica mia mamma vi faccio vedere i bellissimi piedi e adesso li abbiamo abbiamo riempito questi vecchi secchi zincati e quelli di plastica con l'acqua fredda e adesso pian pianino li puliamo non sono li puliscono loro ma io li aiuto io più che altro faccio i trasporti l'importante è togliere la se c'è un po di terra uno si dà un colpetto con le mani così una volta che sono puliti si prendono le mettiamo nelle cassette nelle cassette così e dopo le impigliamo magari le mettiamo una vuota sotto e poi sopra l'altra in modo che così scolano e domani partiamo la veronica si mette lì con col fuoco con domani facciamo vedere ci abbiamo un barile tagliato dove mettiamo il legno sotto e la caldaia inox dove mettiamo i pomodori e gli diamo una scottata fin che crepano e poi dopo il giorno dopo quindi tra due giorni li passiamo con il passapomodoro e questa è la seconda parte ciao allora oggi è il 21 agosto e quindi un giorno dopo la raccolta è lunedì dice la veronica giustamente allora è la veronica sta sbollettando i pomodori qui abbiamo un una caldaia a legna è un bidone tagliato modificato che aveva mia mamma che lo usava una volta per quando ammazzavamo il maiale c'è una caldaia inox d'acciaio inox e abbiamo riempito d'acqua e stiamo alimentando a pezzi di legno vecchio di scarto e stiamo prendendo i pomodori dalle cassette che abbiamo lavato ieri che avevamo fatto vedere la parte di lavatura abbiamo quindi raccolti ieri siamo venuti a casa l'abbiamo lavati nei bigonci bene e adesso la veronica pian piano di prende dipende con questo la sua tonica di far vedere poi li mettiamo a sbollentare e questo qua è il risultato finale adesso vi faccio vedere la veronica che ritirà su di riprendere che sono un po crepati devono essere un po crepati come vedete poi li mettiamo qui la veronica vedete li sta prendendo li mettiamo qua e questo qua il bellissimo lavoro che sta facendo lei perché io non sono tanto per io mi occupo della parte logistica tecnica quindi trasporto pomodori mantenimento fuoco approvvigionamento legname e questo e questa è la la vasca che usiamo per smelare l'opercoli dove mettiamo i telaini da da melario disopercolare delle api perché ha un fondo a un fondo di lamiera forata rialzato e ha uno scarico in modo che così e pomodori lasciamo qui almeno una giornata così perdono un po d'acqua che esce in modo che così domani la passiamo con il passo pomodoro poi faremo vedere adesso non so se la passeremo tutta in una volta e verrà passata col passo pomodoro che abbiamo quello elettrico con un bel motore e poi dopo la faremo con un'altra caldaia di rame sempre con questo bruciatore qua legna la faremo bollire e poi verrà invasettata calda poi comunque vi faremo tutto a dettaglio sempre in altri pezzetti di video che metteremo qui in coda a questo ok ciao allora oggi è il 22 martedì agosto e siamo qui sempre con la veronica qua sta andando da fa mia mamma sempre qua e allora ieri come avete visto abbiamo la veronica mia mamma hanno sbollentato i pomodori li abbiamo messi qui nella vasca che usiamo per per gli opercoli del miele quindi car grigliato sotto e con loro il rubinetto e questo qua tutta l'acqua che è uscita anche stanotte città perché sono asciugati abbastanza adesso la veronica li mette in un secchio li prende e qui abbiamo il passo pomodoro questo qua è un passo pomodoro della rebbe una detta di reggio vai attacca pure elettrico insomma è lontano un po che sennò si sente troppo rumore adesso vi firmo un po senza parlare così vedete un po come funziona attacca secondo una volta passato le bucce sconda questa parte cadono in questo secchio e poi le passiamo altre due volte quindi in totale vengono passi tre volte le bucce il poi la passata scende qui nel secchio questi qua sono i pomodori come abbiamo visto prima che poi dopo li mettiamo abbiamo due caldaie con la con la caldaia di rame questo qua sempre alimentate a legna l'importante è in questa fase tenere di utilizzare dei pezzi grossi quindi della legna da ardere dei pezzi grandi che non facciano tanta fiamma perché altrimenti si rischia che si scotta che scotta bruci infatti c'è mia mamma che la sta mescolando e poi la la caldaia di rame è stata unta con dell'olio è stata abbondantemente unta prima di essere di esserci messo la passata e poi deve bollire poco alla volta deve bollire un pochino in mezzo adesso vedete con calma e adesso qui ce n'è un'altra qui questa qui adesso la stiamo ancora caricando e viene mescolata adesso qui non ancora piena pian pianino andremo a finire di passato tutti i pomodori e li metteremo qui con calma l'importante è alimentare con poca legna i pezzi grandi la caldaia per evitare che si bruci per la mescolata e poi dopo una volta la faremo bollire circa un ora e poi farò vedere la parte di invasatura utilizzeremo i vasi da un chilo da miele verrà invasata calda e poi verranno messa nei vasi capovolti e poi messi sotto e poi messi messi in un sotto un panno per per fare sottovuoto sempre a rovescio quindi ci aggiorniamo nell'altro spezzone allora è sempre martedì 22 agosto abbiamo fatto bollire la salsa circa un'oretta da quando ho preso il primo bollore abbiamo già invasato la prima questa è la seconda e adesso stiamo invasando vi faccio vedere con questi qua sono quelli che abbiamo fatto circa una quarantina usiamo i vasi da miele le capsule usiamo quelle da miele perché abbiamo finito quelle da salsa che sono identiche solamente che sono rosse e poi ci vanno i guanti a stringere perché a parte che scotta c'è una presa migliore si stringono e poi si mettono capovolti perché fanno sottovuoto e dopo si mettono sopra delle coperte e ci lascio qui una giornata e poi dopo li rigiriamo e li mettiamo nelle cassette dopo in cantina e noi li abbiamo mangiati anche dopo tre anni adesso qui la prima caldaia è quasi finita ce ne sono una cinquantina tipo ce ne sono un centinaio all'incirca centinaio di di vasi d'anchino come dicevo le capsule noi usiamo queste qua ma vanno bene sono anche queste qua da miele vanno benissimo chiaramente vogliono nuove queste qua sono nuove non usate qui a parma quelli che vendono queste vendono anche quelle della salsa come vi dicevo che sono identiche rosse adesso abbiamo spento il fuoco sotto poi gli diamo una mescolatina perché non si attacca come come vedete si era preso abbastanza questo qua a livello iniziale questo qua a livello finale siamo in fondo nient'altro se vi viene vuole di fare la salsa e abbiamo fatto vedere un po come la facciamo noi noi lo facciamo da ben già fatta cosa abbiamo già fatta 3 o 4 volte la terza volta che la facciamo negli ultimi cinque anni non siamo morti quindi la tecnica funziona bene o male non abbiamo mai avuto problemi a parte magari un qualche vaso che magari non si non si è chiuso bene quando si chiudono importante chiuderli bene come dicevo con i guanti si fa presa non esagerate perché se passa lo scatto dopo non chiude e poi si capovolgono la prima calda è fatta adesso facciamo l'altra quindi io la veronica vi salutiamo se avete qualche domanda scrivete pure nei commenti o altrimenti scrivetevi al nostro gruppo di telegram e se volete assaggiare la salsa quando passate a palma la veronica vi fa una pasta asciutta la pasta al pomodoro comodoro l'abbiamo la pasta ne abbiamo sempre in dispensa quindi se passate di qui venite a trovarci ora vi facciamo assaggiare la salsa e la veronica la faccio lavorare un po io la veronica vi salutiamo ciao ciao a tutti ciao 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 ciao